Come sempre accade nel mese di novembre, quando il Parlamento esamina la legge di bilancio, il dibattito politico e sindacale si anima. Quest'anno, però, a complicare la vicenda si aggiunge un altro elemento. Proprio in queste settimane, infatti, i sindacati della scuola sono impegnati anche su un altro fronte, perché c'è un contratto nazionale scaduto il 31 dicembre del 2018, che va rinnovato al più presto. Fino alla scorsa settimana sembrava che la situazione fosse più o meno sotto controllo, poi nel giro di pochissimi giorni lo scenario è cambiato completamente. In queste ore si parla addirittura di un possibile sciopero dell'intero comparto scuola. Con una complicazione di non poco conto, il fronte sindacale è di fatto diviso. Da un lato ci sono FLC-CGL, Will Scuola, Snals e Gilda, che, avendo perso la pazienza, hanno proclamato lo stato di mobilitazione. Dall'altro CISL Scuola, che invece vuole proseguire il confronto con il ministro per tentare di ottenere qualche risultato. Per la verità, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha già fatto capire che la legge di bilancio è pressoché blindata e che le possibilità di modificarla sono molto limitate. Soprattutto sarà pressoché impossibile aumentare l'entità delle risorse disponibili. E così, per ridurre il numero degli alunni per classe, bisognerà inventarsi qualche soluzione creativa in materia di gestione degli organici. E anche l'inserimento nelle scuole primarie di docenti specializzati in scienze motorie dovrà avvenire a spesa invariata. Ma sentiamo in proposito che cosa ha dichiarato il ministro Bianchi intervenendo mercoledì 17 ad un convegno promosso dall'Associazione Nazionale Presidi. Uno dei risultati del PNRR è che abbiamo negoziato, e quando dico negoziato lui sa cosa vuol dire negoziare col MEF? Che l'organico che tutti gli anni seguiva l'andamento demografico, e sapete che l'andamento demografico è fatto così in Italia, invece rimane stabile e abbiamo l'organico dell'anno scorso garantito fino al 27 e stiamo lavorando per proiettarlo in avanti. questo fatto dei tagli, beh questa volta per la prima volta abbiamo mantenuto stabile l'organico anche in caduta demografica. E quindi possiamo usare questi insegnanti per fare quelle operazioni che dice lui. Dice la classe Pollaio bisogna ridurre da 27 a 26. No, bisogna fare quello che dice Antonelli, bisogna superare questo concetto di classe chiusa. Questa idea di una scuola fatta a modo del servizio militare dell'Ottocento, dove quando devi prendere una persona si chiama reclutamento. E questa è la realità della scuola, il reclutamento. Signori, in piedi! Nella prima bozza della legge era prevista poi anche la cancellazione della carta del docente, misura che avrebbe consentito di liberare risorse per più di 350 milioni di euro da utilizzare per gli incrementi stipendiali. I bene informati dicono che la misura era stata concordata con gli stessi sindacati, ma l'immediata reazione delle forze politiche e le proteste dei docenti provenienti dalla rete hanno indotto il governo a ritirare la proposta. E così adesso si discute animatamente su una piccola postilla inserita nell'articolo 108, secondo cui una parte degli aumenti stipendiali dei docenti dovrà essere legata alla dedizione all'insegnamento. L'espressione ha suscitato anche l'ironia dei sindacati e delle forze politiche, anche con qualche commento sarcastico. Qualche novità arriva però dall'incontro svoltosi nella mattinata di giovedì 18 fra ministro e sindacati. Patrizio Bianchi avrebbe assicurato a tutti che il testo dell'articolo in questione verrà riscritto e che l'espressione dedizione all'insegnamento sarà cancellata. Di maggiore sostanza l'altro impegno assunto dal ministro. La proroga per i contratti a tempo determinato per il cosiddetto personale Covid riguarderà non solo i docenti ma anche il personale ATA. Ovviamente di tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel sito del nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. 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 Grazie.